Ieri è stata comunicata la positività di altre 61 persone nel mandamento baianese, dove da luglio ad oggi si contano in totale 166 contagiati. 48 positivi ad Avella, 44 a Baiano, 36 a Sperone, 18 a Mugnano del Cardinale, 14 a Sirignano e 6 a Quadrelle. Nel bollettino dell'azienda sanitaria locale vengono riportati anche altri 30 contagiati, che si riferiscono ai seguenti comuni, 1 ad Aiello, 1 ad Aquilonia, 2 a Riano, 1 a Tripalda, 4 a Vellino, 1 a Carife, 1 a Cervinara, 3 a Mercogliano, 1 a Mirabelleclano, 4 residenti nel comune di Monteforte, 1 a San Michele di Serino, 6 a Solofra, 1 a Torella dei Lombardi, 3 residenti a Zungoli. Un positivo a Bisaccia e la notizia è stata data questa mattina direttamente dal sindaco Arminio. Dal 3 luglio ad oggi in Irpinia si contano 1029 positivi distribuiti in 90 comuni, compreso il capoluogo dove al momento sono 98 i casi Covid. Il numero dei positivi in Irpinia però purtroppo è destinato a crescere ancora per più di un comune. Si resta infatti in attesa di conoscere l'esito di tamponi come nel caso di Avella, Candida e Cervinara. Per il comune Caudino ieri sera il sindaco Caterina Lengua è stata informata dell'esito di 123 tamponi rispetto ai 148 eseguiti il 22 ottobre su studenti e personale scolastico dell'Istituto Francesco De Sanctis. Di questi 121 sono negativi e due inadeguati per cui vanno ripetuti. Ora si attende l'esito di altri 25 test. Grazie a tutti.